Buonaccina Paolo, presente Pozzone Enrico, presente Ripomonti Alfonso, presente Ripomonti Ambrogio, presente Rocca Enrico, presente Strigelli Antonio, presente Sottocorno L'Alfredo, presente Liganò Emilio, presente Discardi Angelo, presente Mariani Alessandro, presente Bonfanti Giuseppe, presente Con tutti in Seconda Guerra Mondiale Buonaccina Federico, presente Bonfanti Mario, presente Fumagalli Pietro, presente Ripomonti Mario Giuseppe, presente Presente